Ci siamo per il grande evento di fine anno, domenica 31 luglio alle ore 21.30 a Siculiana Marina. La scuola di canto, il bel canto di Ina Infurna, porta in scena lo spettacolo di fine anno. Sì, lo spettacolo quest'anno sarà un incontro tra due mondi molto particolari perché faremo un sodalizio tra le colonne sonore dei film più belli di tutti i tempi e non dimentichiamo però la nostra predilezione per il musical, quindi tra le colonne sonore saranno infilati anche stralci di musical importanti, famosi, moderni che sono rimasti anche quelli nella storia del musical vero e proprio come Grease che sarà la nostra colonna sonora finale e il nostro musical finale con cui concluderemo lo spettacolo. Quindi sarà un evento spettacolare? Un evento spettacolare che vede protagonisti tutti i ragazzi dell'associazione musicale Il Bel Canto che quindi si scambieranno tra tanti ruoli, quindi faranno appunto tra le colonne sonore del musical faranno tante cose diverse, canteranno, balleranno, quindi hanno già fatto delle belle coreografie e colgo l'occasione pure per citare due dei miei collaboratori preziosissimi grazie ai quali siamo riusciti a mettere in scena questo ennesimo spettacolo uno è Vincenzo Sansone e l'altra Enza Zambito con cui collaboriamo per dare vita a questi spettacoli di fine anno molto intensi e pieni di roba, di tanta tanta roba. Progetti futuri per la sua scuola di canto subito dopo questo evento del 31 luglio? Sì, a settembre abbiamo tante novità che bollano in pentola come si suol dire perché insieme al canto presso la nostra scuola è possibile studiare anche altre materie come il pianoforte, la chitarra, la batteria, quindi è un mondo in espansione quindi a settembre faremo il secondo grande appuntamento con tutti i ragazzi vecchi e nuovi un open day nel quale tutti i ragazzi potranno visitare la struttura e vedere un po' quello che si può studiare. La bella novità comunque è che essendo anche accreditati con il Politecnico di Vibo Valencia è possibile anche laurearsi in canto moderno, in batteria, in basso, in chitarra elettrica e quindi abbiamo anche la possibilità di proseguire con gli studi e dare ai ragazzi un titolo che sia fondamentale per l'inserimento nel mondo del lavoro. Quindi tante belle novità e tanti anche riscontri positivi e utili per i ragazzi per inserirsi anche in un momento così difficile nell'ambito del lavoro.